Sonny, oggi dicevi che era un percorso duro, però è arrivato comunque un secondo posto incoraggiante in un certo senso. Sì, è stata davvero una corsa impegnativa, sinceramente, non pensavo neanche di tenere, sapevo che stavo bene, la squadra ha lavorato al meglio e non c'è nulla a dire, bisogna fare i complimenti a Fedi che ha fatto un bel numero, noi ci siamo guardati, da morale con il secondo posto, però volevo regalare la prima vittoria alla squadra perché solo merita, perché possiamo avere un bel gruppo quest'anno, competitivo e proveremo nel prossimo appuntamento. L'impressione è che in casa a Bardiani si deve partire con un altro piede quest'anno, tanti buoni risultati, tante belle prestazioni, un cambio di rotta c'è stato quasi. Sì, è un'altra squadra, un altro gruppo, più compatto, più unito, infatti si vedono già i risultati delle prime gare, non solo io ma tutta la squadra. Appuntamento a Lugano? Sicuramente sì.